benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui parleremo delle interfacce cosa sono le interfacce le interfacce sostanzialmente sono una variante delle classi dove tutti i metodi sono implicitamente astratti quindi non hanno un'implementazione un corpo gli attributi eventualmente dichiarati sono statiche final e tutti i membri sono di nuovo implicitamente public in particolare le interfacce sono distinte dalle classi normali dall'uso della parola chiave interface invece di classe avendo tutti gli attributi avendo tutti i metodi astratti sostanzialmente non possono essere istanziate esattamente come le classi astratte tuttavia di nuovo come le classi astratte possono tranquillamente essere utilizzate come tipo di riferimento quindi quando io vado a dichiarare un'interfaccia qui abbiamo l'esempio delle espressioni che avevamo visto come potevamo dichiararle in termini di classi astratte qui l'abbiamo dichiarata expression come un'interfaccia dove abbiamo i metodi evil e formula che sostanzialmente pur non avendolo scritto sono astratti e pubblici quindi normalmente un'interfaccia è un meccanismo che ci permette di andare a scrivere in maniera molto più sintetica quella che sarebbe una classe totalmente astratta. Come facciamo a ereditare da un'interfaccia? Per ereditare da un'interfaccia usiamo la parola chiave implement per cui ad esempio la classe value implement expression e ovviamente va a ridefinire i due metodi value e formula con quello che è il meccanismo classico dell'override esattamente come per le classi astratte una classe che implementa un'interfaccia deve andare a fornire l'implementazione di tutti i metodi altrimenti deve essere dichiarata astratta. Come funziona quindi il meccanismo dell'ereditarietà tra classi e interfacce? Allora in generale un'interfaccia non può estendere una classe, un'interfaccia semplicemente può estendere altre interfacce mentre per quanto riguarda le classi le classi possono estendere una sola altra classe è sempre esattamente una perché se non metto nessuna classe estesa da una mia nuova classe implicitamente sto estendendo oggette. Mentre invece una classe può implementare tante interfacce. Il fatto che ci sia un'unica classe che può essere estesa normalmente va sotto il nome di single inheritance mentre invece il fatto che io possa implementare più interfacce viene chiamato una multiple inheritance. In alcuni linguaggi di programmazione ad oggetti diversi da java è possibile la ereditarietà multipla anche tra le classi. Tuttavia l'ereditarietà multipla tra le classi pone alcuni problemi soprattutto quando ci sono attributi o metodi identici definiti in due classi che vengono estese e quindi c'è il problema di come risolvere questa queste eventuali ambiguità. Per l'ereditarietà multipla dalle interfacce questo problema non si pone perché anche nell'ipotesi di avere due metodi identici in due interfacce che vengono ereditate questi sostanzialmente non hanno nessuna implementazione nell'interfacce quindi l'implementazione che viene assegnata a questo metodo che ha un nome definito in due interfacce comunque è unica ed è definita nella classe. In UML normalmente utilizziamo un simbolo leggermente diverso ovvero una linea tratteggiata per andare a indicare l'implementazione di un'interfaccia mentre invece usiamo la linea continua per l'estensione quindi l'ereditarietà tra le classi. Come sintesi sostanzialmente abbiamo che una classe può estendere esattamente un'altra classe mentre invece può implementare molte interfacce eventualmente anche nessuno mentre un'interfaccia non può estendere alcuna classe mentre invece può estendere anche lei molte altre interfacce. Le interfacce possono essere utilizzate in java per andare a definire quelle che sono delle classi anonime. Come funziona la definizione di una classe anonima? Sostanzialmente io posso andare a dichiarare un nuovo oggetto che ha come tipo l'interfaccia e andare a dire new interface aperta chiusa tonda. Ecco se io mi fermassi qua questo verrebbe considerato dal java un errore di sintassi perché abbiamo detto un'interfaccia sostanzialmente a tutti i metodi estratti e quindi non può essere istanziata ma io non mi fermo qui vado a mettere una coppia di graffe al cui interno vado a fornire l'implementazione dei metodi definiti nell'interfaccia. Vi faccio notare che l'operazione di new, quindi di creazione del nuovo oggetto e la definizione della nuova classe che implementa l'interfaccia sono fatti tutte nella stessa sostanzialmente fase. Quindi il nome della classe che sto dichiarando qua ovviamente non è presente perché interface qui è il nome dell'interfaccia che è già dichiarata separatamente quindi questa classe non ha un nome per questo motivo queste vengono chiamate classi anonime. In effetti se torniamo alla nostra definizione di diverse tipologie di classi annidate queste sono classi locali perché sono dichiarate ovviamente dentro all'interno di un metodo io posso fare una new soltanto all'interno di un metodo e sono anonime. Se vengono definite dentro un metodo statico queste classi saranno implicitamente statiche, se invece vengono definite dentro un metodo normale di istanza ovviamente saranno classi interne e quindi manterranno il riferimento all'oggetto che le ha create. Un piccolo chiarimento relativo al termine interfaccia. Abbiamo parlato di interfacce quando abbiamo introdotto il tema dello sviluppo orientato agli oggetti e abbiamo detto che un'interfaccia sostanzialmente in termini generali è l'insieme dei metodi pubblici che vengono definiti a una classe. Quindi il sottinsieme di metodi definiti da una classe che sono pubblici e quindi sono accessibili dall'esterno della classe quindi dagli altri elementi che usano un oggetto della classe viene di solito chiamato in termini generici interfaccia. In java interfaccia è una parola chiave che permette di andare a definire un variante di quelle che sono le classi. Quindi è un concetto diverso anche se è sostanzialmente correlato perché quando una classe implementa un'interfaccia tutti i metodi di quella interfaccia java sostanzialmente costituiscono una interfaccia intesa nel senso più generale della classe. Quindi attenzione quando usiamo il termine interfaccia perché interfaccia in senso generale significa tutti i metodi pubblici o comunque una particolare sotto insieme dedicata a un particolare scopo mentre invece interfaccia quindi la parola chiave interface ha un significato molto più definito e ristretto. Abbiamo detto che all'interno delle interfacce è possibile andare a definire dei metodi che siano statici. I metodi statici all'interno di un'interfaccia ovviamente non possono fare riferimento a metodi di istanza perché ovviamente oltre a non essere dichiarati perché non hanno il corpo non abbiamo la possibilità di fare riferimento a un particolare oggetto, non esiste un dis essendo un metodo statico esattamente come per le classi irregolari, non possono andare a modificare gli attributi statici perché per default nelle interfacce tutti gli attributi sono sostanzialmente final quindi sostanzialmente corrispondono a delle costanti. Ovviamente possono fare riferimento ai loro parametri e a partire dalla versione 8 di java possono essere ridefiniti quindi io posso andare a fare in una classe che mi implementa un'interfaccia per fare un override di un metodo statico definito nell'interfaccia implementata. Oltre ai metodi statici in java a partire dalla versione 8 è possibile andare a definire dei metodi che vengono chiamati di default. Cosa sono dei metodi di default? Sono sostanzialmente dei metodi che a differenza degli altri metodi normalmente dichiarati in interfaccia hanno un'implementazione quindi hanno un corpo del metodo. Ovviamente un metodo di default può fare riferimento agli altri metodi definiti nell'interfaccia. Ovviamente non possono fare riferimento ad alcun attributo non statico anche perché nell'interfaccia non esistono attributi non statici. Sarebbero eventualmente definiti in una sottoclasse però nell'interfaccia questi non sono noti e ovviamente possono essere ridefiniti quindi una classe che implementa un'interfaccia che contiene un metodo di default può fare un override. A che cosa servono i metodi di default? Sostanzialmente permettono di andare a inserire un comportamento all'interno di un'interfaccia che altrimenti sarebbe puramente dichiarativa e quindi si comportano come dei metodi normali. Quindi sostanzialmente ci danno la possibilità di avere molto più potere espressivo perché, ricordiamoci, con le interfacce è possibile avere l'ereditarietà multipla e quindi io posso andare a ereditare non soltanto la dichiarazione dei metodi ma bensì anche la loro implementazione da più interfacce. Un altro elemento importante è che io posso andare a modificare delle interfacce preesistenti. Immaginate di avere un'interfaccia nella versione 1 del vostro sistema. Nella versione 2 io vorrei andare a modificare quell'interfaccia, però se definisco un metodo in quell'interfaccia tutte le classi che la implementavano e che quindi nella versione 1 funzionavano non funzionavano più perché non implementano quel metodo. Quindi una possibilità è quella di andare a definire un metodo statico, scusate, un metodo di default che rende corrette le classi che già implementavano l'interfaccia perché essendo un metodo di default ha già la sua implementazione e quindi non deve essere ridefinito, ma può essere ridefinito nelle nuove classi che quindi vanno a sfruttare nuove caratteristiche di quell'interfaccia. Quindi è un meccanismo che mi permette di preservare una certa compatibilità nell'evoluzione delle interfacce. Fine una notazione di terminologia. In Java esiste un insieme particolare di interfacce che sono chiamate interfacce funzionali e che sostanzialmente hanno un unico metodo di istanza. Qual è la motivazione? È che sostanzialmente queste interfacce sono sostanzialmente delle funzioni perché non potendo definire metodi, non potendo definire attributi, il risultato di questi metodi sostanzialmente corrisponde a quelli che sono i parametri. Ovviamente un'interfaccia funzionale può contenere altri eventuali metodi che siano statici oppure di default. Una caratteristica importante delle interfacce funzionali è che quel metodo deve avere una semantica funzionale, ovvero il risultato del metodo dipende esclusivamente da quelli che sono i suoi parametri. Un esempio è ad esempio l'interfaccia Java Lang Comparator che vedremo in funzione tra poco. In Java l'utilizzo delle interfacce funzionali è abbastanza diffuso soprattutto dal momento in cui sono state definite a partire dalla versione 8 di Java e per questo motivo ci sono una serie di interfacce funzionali già predefinite che quindi possono essere utilizzate all'interno di un package che si chiama java-util.function. Ad esempio queste sono le principali interfacce definite in questo package. Vediamone qualcuna. Allora Consumer è un'interfaccia che ha un unico metodo che si chiama Accept che sostanzialmente riceve un parametro e non restituisce nulla. Fa qualche elaborazione, lo stampa, lo salva da qualche parte. L'interfaccia che fa l'operazione inversa si chiama Supplier che sostanzialmente è un metodo che si chiama Get che restituisce un oggetto, quindi genera sostanzialmente, fornisce degli oggetti ogni volta che viene chiamato restituisce un nuovo oggetto. Abbiamo poi un'interfaccia che si chiama Predicate che è un metodo Test a cui passiamo un oggetto e sostanzialmente esegue un test e ci dà il risultato. E poi abbiamo l'interfaccia Function che se volete è il prototipo, la cosa più ovvia a cui potremmo pensare che ha un metodo che si chiama Apply che riceve un parametro e restituisce un valore. E poi abbiamo una variante che si chiama ByFunction che riceve non uno ma due parametri e restituisce un valore. Come vedete tutti i parametri e i valori restituiti, tranne ovviamente Predicate, sono degli oggetti, quindi queste sono interfacce funzionali assolutamente generali, quindi possono essere utilizzate passando oggetti di qualunque tipo. Il problema è che definiti così questi valori di ritorno devono poi essere convertiti in un tipo più corretto tramite un downcast che tendenzialmente può avere dei problemi. Per questo motivo vedremo che in realtà questa definizione che vediamo qua non è quella esattamente definita nelle librerie Java, ma è leggermente diversa e utilizza una nuova funzionalità di Java che si chiama i generics, di cui parleremo sostanzialmente dopo aver affrontato e aver concluso il nostro discorso sull'ereditarietà. Queste sono tutte le interfacce funzionali che permettono di andare a gestire degli oggetti. Ovviamente può essere utile avere la gestione anche di tipi primitivi, per cui ad esempio c'è tutta una serie di funzioni pensate per il tipo int. Qui abbiamo un apply che riceve un int e restituisce un object, un consumer che riceve un int, un int predicate che riceve un int, un supplier che ha un metodo che si chiama get as int e restituisce un int e un int binary operator che riceve due interi e restituisce un int. Quindi abbiamo una serie di funzioni già predefinite che ci danno le tipologie principali di conversioni funzionali. Quindi ricordiamoci che tendenzialmente il valore dipende dal parametro che viene passato. A questo punto abbiamo visto le caratteristiche fondamentali dell'ereditarietà in Java, abbiamo visto come funzionano le estensioni tra le classi, abbiamo visto le classi astratte, abbiamo visto la classe object che è la base di tutte e poi adesso abbiamo parlato delle interfacce. A questo punto si tratta di capire come possiamo andare a utilizzare nel concreto l'ereditarietà e in particolare le interfacce che sono quelle che ci danno molta più flessibilità rispetto alle altri costrutti per scrivere del codice e andare a risolvere problemi tipici che troviamo nell'andare a risolvere delle richieste e andare a implementare del codice.